Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi andrò a mostrarvi una partita di Albert Einstein Considerato il genio per eccellenza, uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi In questa partita Einstein dimostra di avere una grande visione di gioco Dà vita infatti a delle combinazioni molto belle Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e iscrivervi al canale Grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo, siamo a 60.500 iscritti, il vostro supporto è molto prezioso Grazie a tutti e iniziamo Ok eccoci qui, voglio ricordarvi anche che da oggi fino al 6 giugno sarà attiva la spedizione gratuita su ogni prodotto che ordinerete dal negozio Ci sono anche delle nuove magliette, ad esempio guardate questa, Bonecloud I prezzi chiaramente sono diversi, vari colori, rimangono le magliette, questa è da abbandono Quindi scorriamo velocemente, poi ci sono nuove magliette, vedete con il re ad esempio, il re valore infinito Insomma ragazzi vedete voi, c'è sempre la mitica maglietta The Pounds e tante altre Date un'occhiata al negozio, spedizione gratis Ora torniamo alla partita Siamo nel 1913 a Zurigo e Einstein affronta con i pezzi bianchi un certo Cell Non sono riuscito a trovare molto su di lui Einstein inizia con pedone E4 Cell risponde con E5 Segue cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4 Einstein gioca la partita italiana Cell risponde con alfiere C5, ovvero la mossa più giocata Anche oggi è la mossa più giocata alfiere C5 Einstein gioca pedone C3 Rientriamo nella variante classica della partita italiana In pratica il bianco vuole giocare pedone D4 per occupare il centro Il nero continua con cavallo F6, gioca la mossa migliore Sviluppa un pezzo, attacca il pedone in E4, si prepara a mettere il re al sicuro con arrocco Ma Einstein non perde tempo e gioca pedone D4 La partita si fa già molto interessante Questa è una variante teorica Viene giocata pure oggi anche dai migliori giocatori al mondo Cell cattura il pedone in D4 Segue pedone per D4 E arriva alfiere B4 scacco Ok, qui la mossa più giocata è alfiere D2 Ma Einstein continua con la seconda mossa più giocata Ovvero cavallo C3 Così facendo però il pedone in E4 rimane in presa Perché? Perché il cavallo è inchiodato E quindi il nero potrebbe giocare cavallo per E4 Questa è la mossa migliore Anche in questo caso sarebbe comunque teorica la variante Ma Cell decide di non catturare in E4 E gioca a rocco Mette il re al sicuro Ora però effettivamente Einstein si ritrova ad avere un centro molto forte Questi due pedoni sono veramente fortissimi E inizia a sfruttarli subito in qualche modo Gioca a pedone E5 Attacca il cavallo in F6 Il cavallo salta in E4 Cell aumenta la pressione sul cavallo in C3 Ma Einstein se ne frega Non va a difendere il cavallo in C3 Ma gioca alfiere D3 Sposta l'alfiere lungo questa diagonale Per attaccare il cavallo e per attaccare la casa H7 Di fatto questa mossa è sbagliata Non è granché Perché la pressione in C3 è troppo grande appunto Cell cattura il cavallo in C3 Gioca la mossa migliore Einstein riprende di pedone E arriva alfiere per pedone Scacco Ora il nero sta attaccando anche la torre Qui molto bravo Einstein a non giocare mosse come alfiere D2 Ma gioca Re F1 Questa è la mossa migliore Cell chiaramente cattura la torre in A1 E ci ritroviamo in una posizione che sembrerebbe abbastanza disastrosa per il bianco In realtà Einstein qui ha un piano in mente Ha un piano molto lungo Quindi anche se non sta giocando la partita perfetta Possiamo però apprezzare la sua idea di gioco Ora ha sacrificato una torre e un pedone in meno Senza avere compenso possiamo dire perché effettivamente qui il bianco ha solo una torre e un pedone in meno Ma guardate cosa fa Einstein Ad Einstein non basta tutto ciò Anzi vuole sacrificare un altro pezzo Ecco da dove era partita l'idea Dopo aver giocato alfiere D3 lui aveva in mente di giocare alfiere per H7 E infatti qui gioca alfiere per H7 Il cosiddetto dono greco Einstein si lancia all'attacco Vuole dare scacco matto Cell ha due scelte Può catturare oppure può giocare Re H8 Decide di giocare Re H8 Non cattura l'alfiere Questa è una mossa sbagliata però Il bianco qui addirittura passa in vantaggio Cell doveva catturare ma era così semplice Forse non era così semplice Perché qui seguiva comunque cavallo G5 scacco E dopo ad esempio Re G8 Donna H5 Per dare scacco matto in H7 Qui il nero avrebbe dovuto dare per forza la donna Però ecco appunto era una variante che andava calcolata Dopo alfiere per, cavallo per Effettivamente il nero sta meglio Perché? Perché il bianco si ha la donna Ma il nero ha torre, alfiere, cavallo e pedone per la donna Un compenso più che sufficiente Ma come variante magari non era proprio così banale Quindi dopo alfiere per H7 Cell non se la sente di catturare l'alfiere Gioca Re H8 Einstein continua con cavallo G5 Difende l'alfiere ma più che altro Prepara la mossa Donna H5 Vuole dare scacco matto Cell allora gioca pedone G6 Controlla la casa H5 Impedisce alla donna di accedere a questa casa E allora Einstein gioca H4 Con l'H4 vuole giocare mosse come H5 Aprire la colonna H E attaccare con la torre Cell continua con Re G7 L'idea di questa mossa è di dare la casa H8 alla torre E di venire a difendere Einstein spinge il pedone Gioca H5 E il nero gioca torre H8 appunto Segue semplicemente pedone per G6 E dopo pedone per G6 Einstein gioca donna F3 Anche qui l'idea è molto semplice Einstein vuole dare scacco matto in F7 Come fa il nero a difendersi dallo scacco matto? Perché guardate che disastro qui Non è facile Il re del nero è accerchiato dai pezzi del bianco Ecco una mossa è donna F8 Che è la mossa che è stata giocata in partita Tuttavia non basta questa mossa Perché qui il bianco ha partita completamente vinta E Einstein è molto bravo a trovare la soluzione giusta E gioca una combinazione geniale Ovvero qui continua con cavallo e 6 scacco Da scacco a Re attacca la donna Qui il nero per forza deve catturare questo cavallo Quindi segue pedone per cavallo E Einstein gioca alfiere H6 scacco In questa posizione Cell decide di abbandonare Per quale motivo abbandona? Eh beh sta per perdere la donna No è chiaro Qui cosa può fare il nero? Il nero può catturare l'alfiere in H7 Il bianco continua con alfiere per donna Ma non solo il bianco ottiene la donna qui Ma c'è anche scacco matto a seguire Scacco matto forzato Quindi il nero deve giocare per forza Re in G8 Arriva torre per torre Re per Donna F6 scacco Il Re può andare in H7 oppure in G8 Il risultato non cambia Ad esempio dopo Re G8 Donna G7 scacco matto Un attacco veramente stupendo da parte di Einstein Sembra una partita a senso unico Eppure Einstein ha commesso anche diversi errori in questa partita Però la cosa più importante È che il piano che aveva ideato Da quando ha giocato alfiere di tre Per sacrificare l'alfiere in H7 È stato un piano giusto È stato un piano portato a termine Quindi è stato molto bravo Einstein in questa partita Magari se si fosse dedicato agli scacchi Sarebbe diventato Grande maestro Forse campione del mondo Non si può sapere Grazie a tutti per la visione di questo video Vi ricordo di mettere mi piace E di iscrivervi al canale Ciao e alla prossima